André Conforti Ciao ragazzi, sono André Conforti di Nekon Pet Food Company, da Italia. Siamo qui in IWA per il secondo anno, una delle più grandi esibite in Europa per l'autore e il mondo di cibo. Qui presentiamo la nostra linea specialmente formulari per i lavoratori e per i cibo. In questa edizione stiamo qui per presentare uno dei ultimi prodotti che facciamo. È l'atletico di Nekon Petito, che usa il carne di Nekon Petito. E usiamo anche il potato, perché è una buona source di carboidrati senza gluten. È gluten-free. Per noi è il secondo anno qui in IWA. Il primo anno è stato un grande challenge, ma siamo molto satisfecchi con i risultati. E siamo qui per trovare altri distributori e altri partner per continuare a crescere nel mercato europeo.